Ecco ragazze ci siamo, abbrindiamoci, abbrindiamoci, abbrindiamoci sui calici, sui calici, eccole qua, un brindisi, un brindisi per la nostra sposa, eccola qua, eccola, eccola amiche, ecco, attenzione, attenzione, questo lo ritiriamo un attimo, eccoti, eccoti, ciao come ti chiami? Silvia! Da dove vieni? Da Piacenza! Da Piacenza, ma il brindisi, cioè, che si può fare come quello che esce le magliette alle amiche, Dave mi fai un primo piano, ragazze respirate forte, respirate forte di 33, ecco, sei tu quella della maglietta? Sì! E il tuo brindisi solito che fai? Sì, sempre, lo faccio così sempre! Ragazze, lei va sempre in giro così a Piacenza? Sì, sempre, sempre, sempre! Estate, autunno, inverno, sempre? Sì, sopra tutti! Quattro stagioni! Quindi questo è il saluto tipico della nostra sposa? Sì! Salutaci, eccola qua, eccola qua, nel suo saluto tipico, eh, fantastica, sì, bellissimo, bellissimo, bellissimo! Silvia! Si chiama la Bisia! La chiamiamo Bisia? Bisia, Bisia! Perché la chiamiamo Bisia? Perché è il suo soprannome! E come mai l'avete chiamata Bisia? Eh, perché da piccola Bisiava, cioè faceva tipo le api, che... Ah, davvero? Ah, è una sua qualità! Allora Silvia, mi raccomando, adesso diamo questo, un attimo da tua amica, vogliamo capire il perché del tuo soprannome! Mi fai vedere come facevi da piccola! Fammi una bisiata! Vai, vai, fammelo di più, vai, vai! Vai! Di più, di più! Di più, di più, di più! Ah! Ecco, questa ragazza strana si chiama Silvia, viene da Piacenza, qualcuno se la sposa! Chi è questo ragazzo così coraggioso che ha deciso di vivere con te nella follia più totale? Filippo! Filippo, detto? Filippo! Non bisio, bisietto, no? No, no, tu bisi, sei solo te la bisia ufficiale! Sì, sì! Ok, di te cosa gli è piaciuto? La tua follia? Sì! Il saluto anche? Quello non lo so! No, quando l'hai conosciuto l'avrei salutato così, no? Sì, ma eravamo ubriache, quindi... Ah, perfetto, mi piace questo incontro, così! Ok, va bene, è stato bello, è stato bello! Quindi, tu ti sposi con il tuo? Filippo! Filippo! Tu sei la bisia? Sì! Vuoi prenderlo come sposo? Sì! Lui vuole? Spero di sì! Perfetto, mi fai un saluto in camera, a tua maniera? Sì, un saluto da Silvia da Piacenza! La bisia! Uè! Fantastica, fantastica!